Acque agitate, in prudenza ancora eccessiva. Così, a distanza di una settimana dalla tragedia che ha visto annegare a Gimarra papà e figlio Davide Fabio Zandri di Calcinelli, quello appena trascorso è stato un altro weekend di super lavoro per i bagnini di salvataggio. Bagnini protagonisti infatti di diversi soccorsi, per fortuna a buon fine, fra le spiagge di Pesaro e Fano dove batteva Bandiera Rossa per una giornata all'insegna di costanti moti ondosi. Domenica a Pesaro due donne sono state tratte in salva attorno alle 13.30 nelle acque di Ponente di fronte ai bagni delle poste. Le due bagnanti hanno cominciato ad annaspare e hanno finito per essere trasportate dalla corrente oltre le scogliere. Sono intervenuti tre bagnini di salvataggio fra chi si è mosso a nuoto e chi con il moscone e hanno riportato arriva le due donne fra gli sguardi preoccupati dei tanti frequentatori della spiaggia. Una delle due donne si è ripresa sul posto, l'altra è stata portata per accertamenti al pronto soccorso. Altro lavoro per i bagnini sulla spiaggia di Levante dove all'altezza di Bagni Primavera, più o meno alla stessa ora, un trentenne di origine indiana che si trovava in mare assieme a un gruppo di coetanei è stato soccorso dopo un principio di annegamento e trasportato in ambulanza. Tre bagnini di salvataggio in azione anche nella spiaggia di Torrette di Fano dove ha rischiato di annegare un turista trentenne di città di Castello alle prese con un mare impetuoso che ha messo in difficoltà gli stessi soccorritori che dopo più tentativi sono riusciti a trarre in salvo il malcapitato. Insomma, dopo la tragedia della famiglia Zandri, altri tre campanelli d'allarme a ricordare che col mare non si scherza.